Ciao a tutti, sono Enrico Caffarelli e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi ho voluto lanciare un sondaggio sul mio profilo Instagram dove ti invito a seguirmi, Enrico Caffarelli, tutto minuscolo, tutto attaccato per esteso, seguimi e ci messaggiamo in privato. Ho voluto fare questo quesito, ho voluto postare questo sondaggio ed era rivolto alla squadra che ha giocato il miglior calcio fino a questo punto in Serie A. Un calcio convincente, delle partite entusiasmanti anche per chi non è tifoso del Napoli, come me che sono un tifosissimo della Roma, non tifoso, tifosissimo dalla nascita. Io mi incavolo per la Roma, ci metto l'anima, anima e cuore, cosa che alcuni calciatori della Roma non fanno. Vabbè, comunque speriamo che da gennaio cambi un po' la dinamica del percorso della Roma in campionato. Lo spero vivamente. Però torniamo a questo quesito che io ho postato sul mio profilo Instagram. Intanto ti invito a lasciare un like e ad iscriverti anche al canale. Dici, mamma mia come rompi. E vabbè dai ragazzi, siamo amici e io agli amici le cortesie le posso chiedere, come voi le potete chiedere a me. Il quesito è stato, secondo voi il Napoli avrà un calo da gennaio in poi, punto di domanda, oppure continuerà ad essere invincibile? Questa domanda, effettivamente alcuni mi hanno detto, ma Enrico qual è la domanda vera e propria? Secondo voi il Napoli avrà un calo da gennaio in poi, oppure continuerà ad essere invincibile, perché poi sottoscritto sì o no, però penso che si sia capito che la domanda principale è ragazzi, il Napoli continuerà a fare questa striscia di vittorie perché su 15 partite ne ha vinte 13 e ne ha pareggiate due e quindi invincibile è l'aggettivo giusto. Continuerà da gennaio in poi ad essere così? e i miei followers, non voglio chiamarli neanche followers ma voglio chiamarli amici, hanno risposto e hanno risposto, dite, dite ragazzi, però non vorrei che sia anche una risposta di parte perché io ho molti followers della Roma, però penso che siano anche sportivi e quindi presumo che la loro risposta sia stata onesta e pensata anche da amante del calcio, non soltanto da tifoso della Roma, però ho anche parecchi followers del Napoli, che saluto. Io sono così, sono una persona a tutto tondo, ho amici della Lazio, followers della Lazio, del Milan, della Juventus, a me piace confrontarmi, non sono un tifoso bigotto che guardo soltanto la mia squadra, però non è che se devo fare i complimenti a un'altra squadra non li faccio perché sono della Roma. Io sono un onesto obiettivo, anzi ho ricevuto anche critiche dai miei colleghi giallorossi, però non me ne importa niente ragazzi. Enrico Caffarelli è così e ha quasi 47 anni, ecco, st'altro anno, sì st'altro anno, st'altro mese farò 47 anni, il 2 gennaio e voglio anche gli auguri da voi, sono così ragazzi, non si può cambiare una persona a questa età, anche perché non faccio del male a nessuno. Comunque veniamo al quesito ragazzi, alla risposta che ho ricevuto, bene, secondo i miei followers il 70% ha detto sì, il Napoli avrà un calo da gennaio in poi. Mi dispiace per i tifosi napoletani che stanno guardando questo video, però i miei followers hanno detto che ce l'avranno, voi sicuramente sarete facendo gli scongiuri perché farei anche io così, e invece il 30% ha detto no, eccola qua, non so se si vede bene, vedete questa è la soglia del sì, comunque se lo volete vedere, se volete venire su Instagram magari lo vedete anche là, ma fidatevi di me, è scritto sì, 70% sì e 30% no. Che dire ragazzi, è facile che possa succedere perché una squadra che vince tutte le partite, io difficilmente l'ho vista, mi sembra giusto un anno l'Inter e un altro anno la Juventus, ma se non sbaglio l'Inter quando fece quella striscia di vittorie con Mancini, venivamo fuori da calciopoli e la Juventus e di Conte, se non erro, le vinse quasi tutte in un campionato, sono rare queste strisce di vittorie consecutive, però chi lo sa, il Napoli potrà farlo, la squadra ce l'ha, i giocatori fortissimi, pure l'allenatore è un allenatore navigato che ha un'impronta di gioco spettacolare, perciò secondo me potrebbe anche non avere questo calo, però chi lo sa, solo il tempo potrà dirlo. E poi ho fatto un'ulteriore domanda, sempre ai miei followers, ti invito anche a te a divenire mio followers, follower senza la S finale, ma è come se ti dicessi diventa mio amico, perché per me il follower è un amico, io sono sui social per avere amicizie. Ho fatto quest'altra domanda, ho postato quest'altra storia, scusatemi se tartaglio un pochetto, ma vengo fuori da una giornata di lavoro, sono un po' stanco sinceramente, però volevo fare questo video. Chi si contenderà lo scudetto con il Napoli fino alla fine? Ho postato ovviamente Milan, Juventus ed Inter, che secondo me sono le squadre più attrezzate per poter dar fastidio al Napoli. E praticamente il 48% mi ha scritto Milan, il 39% Juventus e il 13% Inter. Eccolo qua ragazzi, non c'è trucco, non c'è inganno, non so se si legge bene, però il primo è il Milan, secondo la Juve e lo spicchiettino piccolo è l'Inter. Secondo me all'inizio del campionato queste squadre partivano davanti a Napoli, sinceramente. Il Napoli lo vedevo come la Roma o leggermente un pochino più forte della Roma in base agli ultimi acquisti che ha fatto ad agosto, perché il Napoli all'ultimo proprio ha comprato Raspatori, Simeone, Don Belè e qualcun altro. Perché prima, io mi ricordo i tifosi del Napoli, erano tutti incassati neri che stavano vendendo i migliori giocatori, se ne stavano andando, Mertens, Insigne, Koulibaly, Fabian Ruiz, erano indiavolati alcuni miei amici napoletani, me lo ricordo io. Poi dopo alla fine Giunto gli fece questo esploi che comprò tantissimi calciatori, pure buoni, alcuni in prestito, alcuni a parametro zero, insomma un po' così, non è che devi comprare per forza tutti con l'acquisto al 100%, però ha stilato una squadra dal nulla, un'ottima squadra, e che squadra? E Spalletti è riuscito ad amalgamarla benissimo, devo dire proprio bene bene bene, quindi adesso vedremo a gennaio se continuerà la squadra di Spalletti ad essere così fenomenale o meno. I miei followers, come vi ripeto, hanno dato questa risposta, io non lo so sinceramente, io non mi espongo, perché ragazzi è normale che potrebbe avercelo come non potrebbe avercelo, però dipende pure dal fatto di come si rinforzano anche le altre squadre, perché a gennaio c'è il mercato, qualche altra squadra ce l'hanno i soldi, i soldi, le risorse, ecco, diciamo più che soldi, risorse per potersi, per poter divenire una squadra, una formazione più forte e più adatta per fronteggiare questo Napoli, questo super Napoli. Tutto qua. Secondo me il mercato di gennaio anche la farà da padrone per quanto riguarda la fine, la vincita di questo scudetto. Poi ovviamente in Napoli c'è otto punti di più della seconda, ragazzi, otto punti sono tanti, però potrebbero essere anche pochi, perché basta che perdi due partite e ne pareggi una, eccolo là che ti sei mangiato tutto il vantaggio che avevi dalla seconda. Perciò sarà secondo me un secondo campionato che il Napoli partirà da prima classificata e con otto punti di vantaggio rispetto alla seconda, che non è poco. Quindi ci divertiremo, ragazzi, ci sarà da divertirsi. Lascia un like se ti è piaciuto questo video, ma pure se non ti è piaciuto, dai, fammi un favore. Che maddacchione che sono. Iscriviti al canale e attiva la campanellina, così quando faccio un video ti arriva subito la notifica sul cellulare. Ci vediamo alla prossima. Ciao da Enrico Caffarelli. Ti do pure un bacio, va.